Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito mute. Lo so, nelle storie di Instagram vi avevo detto che non avrei fatto un video su questa prima immagine della nuova season pubblicata da Ubisoft, semplicemente perché c'era ben poco da dire. Gif che lascia fin troppo all'immaginazione e scritta in arabo che tradotta vuol dire benvenuti in Marocco, ma conoscevamo già da tempo la nazionalità del prossimo DLC. Però ormai mi dovreste conoscere, quando c'è anche solo l'odore di qualche indizio, perdo la testa e comincio le mie stranissime ricerche. Per prima cosa, l'utente di Almighty Chanka ha beccato giusto in tempo quello che possiamo definire il primissimo leak di questa nuova stagione, il nome dell'operazione. A quanto pare infatti il profilo Instagram di Ubisoft Brasile avrebbe pubblicato erroneamente e solo per qualche istante una versione differente dell'immagine, con tanto di nome Operation Wind Bastion. Dopo poco inoltre l'avrebbe rimossa per sostituirla con una simile, senza la scritta, ma con un'inquadratura diversa da quella diffusa ovunque. Facciamo un passo indietro e proviamo ad analizzare la GIF ufficiale dando per giusto il nome Bastione del Vento. Cos'è un bastione? Si tratta di una tipica struttura difensiva diffusasi tra il XV e il XVI secolo, la cui caratteristica principale era quella di risultare molto squadrata e alta quanto le mura circostanti. La domanda sorge spontanea. Ci sono bastioni in Marocco? Indovinate un po'? La risposta è ovviamente sì. Il bastione di Bab Marrakesh ad esempio si trova ad Al-Sawira, cittadino occidentale del Marocco che affaccia sull'oceano. La Ubisoft ha sempre preso solo spunto da strutture davvero esistenti, ma se il nome dovesse rivelarsi reale ed il mio ragionamento giusto, probabilmente avremmo già un'idea generale sulla nuova mappa. Non finisce qui. Il nome a cui stiamo facendo riferimento è Bastione del Vento e la GIF mette in risalto proprio questo aspetto. In quella che dovrebbe essere l'entrata principale dell'edificio, arredata in pieno stile arabesco, cosa evidente dai motivi geometrici ripetuti più e più volte, sia del pavimento che delle grate, le tende ondeggiano gonfiate da una leggera brezza e della sabbia si solleva in maniera quasi impercettibile. Quest'ultima mi ha fatto fantasticare ancora un po' sulla possibile location della nuova mappa. È vero che il Marocco affaccia sul mare ed è ricco di spiagge, ma l'idea di avere un edificio all'interno di un oasi nel deserto mi piace molto di più, ed il deserto di Merzouga è forse la parte più suggestiva del Sahara marocchino. Voi cosa preferireste? Una mappa più simile a costa, per intenderci, o a confine? Io opterei per la seconda, almeno per l'ambientazione. Ritornando all'immagine però vorrei farvi notare queste stranissime linee bianche nella parte bassa. Secondo voi cosa sono? Non credo siano lì per caso e provo a darvi la mia opinione. Se si trattasse della visuale di un gadget, magari di qualcosa in grado di rilevare movimenti all'interno di una stanza, sfruttando proprio gli spostamenti d'aria per esempio. Ovviamente sto fantasticando, ma forse una cosa del genere sarebbe interessante da vedere all'opera. Nella seconda immagine pubblicata da Ubisoft Brasile, le linee sono ancora più chiare, ma lo è anche l'ombra proiettata al di sotto della barricata di legno. È quasi scontato, ma per me si tratta di uno o magari di entrambi i nuovi operatori, in attesa che quella porta si apra sulla nuova season. Il periodo con l'iPad 1000 ormai è cominciato e non vedo l'ora di potervi portare altre news. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a condividerlo con i vostri compagni di squadra. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima! Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima!